pace bene a tutti ecco siamo in questo secondo giorno della novena la madonna di l'urte oggi in particolare si celebra san viaggio che protettore proprio e speciale per liberare proprio le persone dalle malattie in particolare da tutto ciò che è legato alla gola infatti il giorno di san viaggio spesso si benedice e alla fine della messa si benedicono le persone e nella gola ecco oggi il signore vuole e che preghiamo veramente in particolare per la guarigione del cuore una cosa molto importante da sapere che quando una persona prova dei pensieri molto forti o dei sentimenti molto forti per stare danni molto forti anche in maniera prolungata e il cervello manda dei comandi questi comandi producono appunto dei neurotrasmettitori e questi neurotrasmettitori poi vanno ad agganciarsi a dei recettori che stanno sui muscoli sui tessuti producono degli ormoni che vanno nel sangue nel corpo e succede quello che a volte capita delle persone cioè di somatizzare per esempio uno comincia a sentire paura una forte paura dopo un po comincia e il cervello manda comandi si producono ormoni vanno nel sangue la paura invece di fermarsi non la continuiamo a in qualche modo ad ascoltare e questo fa sì che poi la persona cominci a sentire tachicardia gli viene dolore alla bocca dello stomaco comincia a tremare comincia a sentire i brividi di freddo e quello è perché il sentimento che era entrato nella mente nel cuore e in qualche modo ascoltandolo dal cervello ha cominciato in qualche modo a travasare attraverso i neurotrasmettitori attraverso gli ormoni attraverso diciamo ecco il sistema si chiama limbico ipotalamico a travasare praticamente nel corpo cioè produrre effetti sul corpo quindi tremori palpitazioni mancanza di ossigeno e così via tutto questo è legato spesso può essere legato a tanti motivi medici questo lo sanno i medici per carità uno dei motivi può essere che si provano degli stati d'animo particolarmente sgradevoli come la paura lo scoraggiamento il terrore di una cosa che ci immaginiamo che possa accadere il terrore che il nostro marito ci tradisca che poi magari non è vero però ecco cominciamo a questa fissa e questo col tempo comincia è come se il cuore viene infiammato da questo sentimento e il cuore come i muscoli infiammati cominciano a far male così il cuore comincia a a mandare agire no la mente comincia a mandare segnali distorti in qualche modo al corpo il corpo comincia a soffrire allora oggi chiederemo al signore proprio la guarigione del cuore da tutti quegli stati d'animo che sono scradevoli e sono molto intensi non parlo perché senti paura senti di tristezza questo può capire a tutti ma quando la cosa è molto intensa e prolungata nel tempo può produrre anche delle somatizzazioni allora oggi chiederemo al signore che ci guarisca in particolare da tutti quegli stati d'animo che magari ci accompagnano da mesi o addirittura da anni quindi chiederemo la guarigione per esempio da dall'amarezza la guarigione dalla tristezza la guarigione dalla paura e da tutti quegli stati d'animo dall'insicurezza proprio perché come noi allo diciamo del cibo avariato e ci viene l'acido così se al cuore noi lo nutriamo con pensieri e sentimenti cattivi gli diamo un nutrimento acido il cuore gli viene l'acidità e questo poi si manifesta nel corpo tante volte una persona agitata si vede dal volto no perché perché l'agitazione entrata nel cuore ma poi si manifesta sul volto la persona comincia a non reggersi in piedi no e uno gli dice ma che hai fatto e niente sono preoccupato perché devo fare una visita ho paura di quello che mi può succedere no sempre la paura la paura allora ecco oggi pregheremo in particolare per la guarigione del cuore perché sembra una scemenza ma sappiate che i sentimenti non gestiti bene i pensieri non gestiti bene e non sottomessi allo spirito santo perché noi non siamo chiamati ad essere schiavi dei sentimenti o dei pensieri noi siamo chiamati a sottomettere tutto allo spirito santo compresi i pensieri e compresi i sentimenti proprio perché chi deve governare noi è il dolce spirito santo il principe della pace che è gesù cristo e san paolo dice dio vi ha chiamati alla pace dio costuderà costuderà i vostri pensieri i vostri cuori in cristo gesù nella pace il demonio invece che sa questi meccanismi che vi ho detto cerca di innescarci paure tristezze cosa affinché il nostro cuore sia agitato e il nostro corpo sia oppresso quando uno prova sentimenti molto forti e prolungati addirittura può gli avveni dolore alla milza e cose proprio somatizzazioni ma reali e non è che si scherza gli e può aumentare versione era massima minima e va cioè non si scherza allora ecco oggi chiederemo la guarigione del cuore perché il nostro cuore diventi impermeabile a tutti quegli stati d'animo e sgradevoli cattivi e prolungati che ci fanno male come se mangiassimo del cibo avariato e chiediamo invece che noi possiamo veramente nutrirci come dice la scrittura io su di voi progetti di pace non di sventura quindi possiamo nutrirci di pensieri e sentimenti di pace allora ecco adesso ci portiamo tutti quanti insieme spiritualmente davanti alla grotta di l'urte immaginiamoci proprio che adesso e consegniamo tutti i nostri cuori proprio li consegniamo al nostro angelo custode immaginiamoci davanti a noi l'angelo custode gli consegniamo davanti alla grotta di l'urte il nostro cuore e chiediamo di portarlo dentro la grotta di metterlo proprio dentro la grotta i vedi di maria perché oggi maria santissima leghi in cateni alla croce tutti quei spiriti che soffiano sul nostro cuore sui nostri pensieri sui nostri sentimenti per amplificarli per agitarli e chiediamo che tutti i spiriti che ci potrebbero essere dietro nei nostri disturbi siano legati incatenati alla croce in modo che non ce li possano più disturbare e chiediamo poi invece che la madonna versi l'acqua di l'urte proprio sui nostri cuori affinché immaginiamoci di vedere questi cuori con le crepe della paura con le crepe della tristezza con la crepe ho sbagliato tutto coi crepe non dovevo cambiare città coi crepe e su quest'acqua chiediamo che la madonna versi l'acqua di l'urte per guarire completamente i nostri cuori perché diventino come un'antenna e sana e bella che completamente aperta ai pensieri e sentimenti che vengono da dio ma completamente inerte e chiusa a tutto quello che viene dal diavolo ed è negativo per la nostra anima carina che terina ma coscia mia carina ma che tassi e cota e suri e cattaria ma cattà e suri e chi ria ma cote siri e cota e suri e cattaria chiede a tutti gli angeli custodi di tutte le persone che hanno donato il loro cuore proprio perché la madonna lo guarisca che preghino con me adesso preghino con noi perché scenda proprio l'acqua dell'urte su tutti i cuori che abbiamo consegnato e messo nella grotta ragataria ma cossonia cataria ma kattassiri e cotta shurya cataria ma kattassarri e cattaria ma kattassari e cattaria Irya ma koshani ak支持ini ak horsani ak支持ini ak支持ini ak Adesso, nel nome potente di Gesù, chiediamo che l'Arcangelo Raffaele, che è l'Arcangelo della guarigione di Dio, quello mandato a Sara e Tobia per guarire il loro matrimonio, per guarire la cecità e per guarire a livello economico. Chiediamo che San Raffaele e le sue regioni adesso prendano l'acqua di Lourdes e la versino su tutti i cuori e affinché tutti questi cuori possano essere come quel deserto che, innaffiato con l'acqua di Lourdes, diventi un giardino. Oggi chiediamo che la Madonna trasformi il nostro cuore che, a volte, è come un deserto di paura, di pericolo, di terrore, di agitazione, e lo trasformi in un giardino, invece, profumato, un giardino di virtù, di frutti dello Spirito, di pace, di benevolenza, di dominio di sé, di sapienza. Kariyama Kashunyaya Katariyama Kataseriya Kutashariya Katariyama Kataseriya Acariamakasùnjakatariyamakatasiriyakatariyam Aramakasùnjakatariyamakatasarayakateryam Akasuryakasunyakatariyamakatasarayam Aramakatasiriyakatasuriyakateriyamakatasiriyam Ikiriyapukasiriyakatasuriyakatariyamakateriyam Iriyapakushaniyakateriyamakatasuriyam Adesso chiederemo la guarigione specifica di alcuni sentimenti a cui si legano degli spiriti cattivi. I sentimenti sono umani ma gli spiriti cattivi cercano di trasformare una ferita, un sentimento brutto in una piaga proprio, cioè in un'ossessione. Allora adesso io prenderò spunto da questo libro che poi ve ne parlerò più in là, perché ve ne parlerò in maniera approfondita, proprio per fare questa preghiera, per liberare proprio da questi sentimenti che sono quelli un po' che stanno alla base, sono un po' i sentimenti chiave che stanno alla base di tutti gli altri sentimenti negativi. Padre Santo, nel nome di Gesù Cristo, tu hai detto nella lettera agli ebrei, capitolo 12, 15, Ecco in particolare chiediamo che adesso tu incateni alla croce, Signore Gesù, e leghi tutti i spiriti di amarezza e i loro sottoposti. Adesso ti chiediamo veramente che l'acqua dell'urte lavi i nostri cuori dal sentimento dell'amarezza. Lavi i nostri cuori dal sentimento dell'amarezza profonda che ci è entrata fino ad eviscere per quell'accadimento, per quella delusione, per quel tradimento, per quella cosa che ci è accaduta e che non ci aspettavamo. Ti chiediamo di legare alla croce tutti i sentimenti che sono legati all'amarezza, il risentimento, la mancanza di perdono, la vendetta, la rabbia, l'odio. Ti chiediamo proprio di legare alla croce ogni desiderio anche di morte delle persone e tutto ciò che è scaturito dall'amarezza. Chiediamo di lavare l'amarezza nel nostro cuore. Chiediamo che l'acqua dell'urte la lavi fino alla radice più profonda e libere i nostri cuori completamente da ogni radice di amarezza, verso Dio, verso noi stessi e verso gli altri. Noi vogliamo essere liberi dalla pianta dell'amarezza e da tutti i frutti cattivi che ha portato nel nostro spirito, nella nostra psiche e nel nostro corpo. Grazie mamma perché stai distrucendo questa pianta dell'amarezza. Immaginatevi proprio di vedere questa pianta che si contorce, si spezza e l'acqua dell'urte la brucia fino alla radice e noi siamo liberi nel nome di Gesù. Adesso, Signore Gesù, voglio, nel nome di Gesù, legare alla croce, vogliamo legare proprio alla croce, tutti quegli spiriti che sono dietro tutti i sentimenti di accusa. Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ecco, Signore Gesù, adesso vogliamo legare alla croce tutti quei spiriti di accusa e di condanna che continuamente suscitano in noi i sentimenti di condanna verso Dio, verso noi stessi e verso gli altri. Adesso chiediamo che San Raffaele versi sul nostro cuore l'acqua di l'urte e ci liberi completamente da tutte quelle volte che abbiamo fatto entrare e noi abbiamo accettato pensieri di amarezza e di ira, pensieri di accusa verso noi stessi e verso Dio e verso gli altri. Ti chiediamo proprio di lavarci da tutto quello che questi sentimenti hanno procurato nel nostro cuore e anche nei nostri corpi. Ti chiediamo di liberarci da tutti gli effetti, da tutti i tremori, dai dolori, dalle somatizzazioni. Chiediamo che l'acqua di l'urte ci lavi fino alle viscere più profonde. Adesso, Signore Gesù, ti chiediamo di incatenare alla croce e legare tutti i spiriti di occultismo che in qualche modo possiamo aver incontrato o perché noi ci siamo rivolti a cose occulte o perché a volte abbiamo subito cose occulte. Tutto quello che questi spiriti possano aver procurato nel nostro cuore in particolare è la confusione, sentimenti di confusione, di incertezza. Tutte le volte che ci hanno fatto dubitare su Dio, sul nostro valore e sul valore degli altri e che ci hanno fatto credere che l'Evangelo non era potente, che Gesù non salva, non libera, non guarisce, che Gesù è debole e non ce la fa. Ecco, ti chiediamo di liberarci da tutte le volte che abbiamo dato spazio a questi pensieri, a questi sentimenti e che abbiamo dubitato di Gesù come Signore, come Salvatore, come unico Dio. nel nome di Gesù Cristo e cosa volete ripetere adesso con me questa preghiera in maniera particolare nel nome di Gesù rinunciamo per la potenza del nostro battesimo a tutti i spiriti di amarezza ai loro sottoposti a quelli di accusa a quelli di occultismo completamente e per sempre fin dal nostro concedimento sia quando l'abbiamo incontrato in maniera consapevole che inconsapevole. Adesso, Signore Gesù, vogliamo chiederti di legare alla croce tutti i spiriti di invidia e di gelosia. Come dice Proverbi Un cuore tranquillo è la vita del corpo L'invidia è la carie delle ossa Mamma mia che frase! Un cuore tranquillo è la vita del corpo L'invidia è la carie delle ossa Sentite? Perché bisogna essere tranquilli e sereni perché un cuore tranquillo è la vita del corpo invece l'invidia è la carie delle ossa cioè consuma le ossa Oppure Giobbe 5 La collera uccide lo stolto L'invidia fa morire lo sciocco Allora ecco, adesso chiediamo che la Madonna legge la croce tutti i spiriti di invidia e di gelosia e con l'acqua dell'urde ci lave il cuore di tutte quelle volte che abbiamo provato invidia e gelosia nel nostro cuore chiediamo che ci lave fino alle viscere dal concepimento di tutte le volte che abbiamo provato invidia e gelosia e da tutti gli effetti che può aver portato sul nostro spirito la psiche e il corpo Nel nome di Gesù rinunciamo a tutti i spiriti e sentimenti di invidia e di gelosia e a tutti gli effetti su di noi Adesso Signore Gesù per la parola di Proverbi 18-14 che dice lo spirito dell'uomo lo sostiene nella malattia ma uno spirito afflitto chi lo solleverà? Ecco Signore, adesso ti chiediamo di legare alla croce tutti i spiriti di rifiuto perché non ci possano più disturbare tutti i spiriti di afflizione e di depressione e chiediamo proprio che tu ci guarisca completamente con l'acqua di l'urte da tutte le volte che abbiamo provato sentimenti di rifiuto per Dio per noi stessi e per gli altri sentimenti di afflizione e depressione ti chiediamo di lavarci fino alle viscere da tutte quelle volte che li abbiamo provati in maniera prolungata e che si sono registrati nella nostra memoria come se fossero diventati una cosa normale per noi un cibo normale con la tua acqua mamma santa con quest'acqua santa di guarigione guariscici completamente noi rifiutiamo completamente tutti i spiriti di rifiuto di afflizione e depressione ci rinunciamo completamente anche in tutti gli effetti perché noi crediamo che tu vuoi darci un cuore pacifico e tranquillo e gioioso hai detto infatti vi ho detto queste cose perché la vostra gioia sia piena rinunciamo a tutte quelle cose che vogliono rubarci la pace la forza il coraggio e la gioia e che non vengono da Dio ci rinunciamo completamente e per sempre adesso signore ti chiediamo di legare alla croce tutti i spiriti di non amore che possiamo aver sperimentato nella nostra vita e tutti i sentimenti di non amore che abbiamo provato fin dal concepimento tutte le volte che non abbiamo amato come Cristo voleva non ci siamo sentiti amati o non abbiamo amato Dio come doveva essere amato tutti i spiriti di non amore che ci hanno fatto amare male noi stessi gli altri Dio ci rinunciamo per sempre e chiediamo che Dio ci lavi ci lavi dalla presa che questi spiriti di non amore hanno avuto su di noi e anche sul nostro corpo grazie perché ci stai lavando completamente il cuore mamma ce lo stai proprio idratando e lo stai liberando da tutta quella secchezza e retità che è stata che si è creata a causa di sentimenti cattivi che avevano seccato il nostro cuore o un deserto rinunciamo completamente a tutti questi demoni e sentimenti cattivi adesso Signore ti chiediamo di liberarci da ogni male e ti chiediamo di legare alla croce tutti i spiriti di dipendenza di schiavitù e dipendenza di dipendenza dalla droga dall'alco dal sesso dal cibo dallo shopping e dalle altre persone anche dal padre e dalla madre da chiunque tutto ciò che non è libertà vera è dipendenza ti chiediamo di legarlo alla croce e l'acqua e l'acqua scenda sul nostro cuore fin dal concepimento a guarire tutte le nostre dipendenze malsane proprio come hai detto come hai detto tu in Giovanni vi lascio la pace vi do la mia pace non come la dà il mondo io la do a voi non siate rubato il vostro cuore e non abbiate mora ecco Gesù io oggi voglio dichiarare che rinuncio a tutte le dipendenze dalle cose dalle case dalle persone da me stesso e dichiaro che l'unica dipendenza che voglio avere è quella da Dio perché è l'unica dipendenza che libera e rinunciamo le dipendenze da qualunque cosa anche dai farmaci noi oggi rinunciamo a tutti i spiriti schiavitù e dipendenze e chiediamo che la Madonna li leghi la croce e chiediamo che lavi nel nostro cuore e nella nostra memoria tutte quelle sentimenti e processi di dipendenza che ci hanno in qualche modo schiavizzati chiediamo che la Madonna ci lavi completamente fino alla radice infine mamma voglio adesso chiederti di legare alla croce di incatenare tutti i spiriti di paura e di loro i loro sottoposti perché tu in due timodio uno sette ci hai detto Dio infatti non ci ha dato uno spirito di paura ma di forza amore e saggezza io rinuncio nel nome di Gesù all'ospito di paura a tutte le sue leggioni e chiedo che l'acqua di l'urte fin dal concepimento mi guarisca da tutte le paure che io ho provato paura di Dio paura di me stesso paura degli altri tutte quelle paure che invece di liberarmi per fare il bene mi hanno reso ancora più schiavo del male chiedo proprio che la madonna leghi tutti i spiriti di paura alla croce perché non mi possano più tormentare e lei l'acqua di l'urte scenda sul mio cuore a guarirlo fino alla radice più profonda da tutte le paure adesso che ha il dono di cantare in lingue preghi in lingue con me perché veramente questa rinuncia liberazione da questi sentimenti cattivi possa essere completa e a posto di questi sentimenti chiediamo che Dio metta invece i frutti dello Spirito Santo cioè sentimenti di pace di benevolenza di coraggio di serenità e di tranquillità rammakaya Diciamo insieme, Spirito Santo riempi in noi tutti i vuoti. Lasciati dagli spiriti e dai sentimenti che se ne sono andati. Questi vuoti siano riempiti di Spirito Santo, sigillati nello Spirito Santo e nel sangue dell'agnello. E come parola per questo giorno, proprio per dirvela in maniera tale da rinnovare questa guarigione che avete ottenuto, perché il demonio vi farà credere che non avete ottenuto nulla, invece voi ripetete di questa frase proprio per rendere sempre attuale la guarigione, rafforzarla in voi e fissarla in voi. Salmo 34, 17, 18, potete andare a leggere? No, 34, 18, 19, sentite? Potete prendere anche solo questa, che è veramente potente. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, vedete? Spezzato dalla mancanza d'amore, dalla paura, da un sentimento cattivo. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato, egli salva gli spiriti affranti. Cioè tutti gli spiriti affranti da paura, da rifiuto, da mancanza d'amore, da gelosia, da invidia, tutto quello che abbiamo detto. Quindi, veramente è una frase potente. Prendetevelo a cuore come il pegno proprio che Dio ha dato della vostra guarigione, è come se avete avuto una guarigione e Dio vi dice, ecco, questo è il documento della guarigione. Quando dubbiti che sei guarita, rilegiti questo documento, cioè ripetetelo. Il Signore salva gli spiriti affranti, e vi ripetete questa frase. Proprio quando vi viene il dubbio, davanti ai dubbi, rifiutateli mettendo questo documento, questa frase. Come Gesù, quando Satana lo tentava, gli rispondeva con la parola di Dio, lo cacciava. Così se Satana è evidente di dire che non siete guariti, che non serve a niente, voi ripetete questa parola. Immaginatevi che questa parola è come quando un serpente vorrebbe entrare nel vostro cuore, voi con questa parola, che è una spada, gli tagliate la testa tutte le volte, e così non ve lo può più toccare. Quindi prendete questa parola e ripetetela, proprio con... con potenza. gridano il Signore, li ascolta, e li libera tutte le loro angosce. Amen, alleluia. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica a tutti per l'intercessione di San Biagio, Vescovo, Dio Onnipotente, nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pace e bene a tutti.